Io mi chiamo Paolo Cesaretti, sono brand manager della Cooperlatt Trevalli. Oggi vi presentiamo un progetto che abbiamo sviluppato all'interno del gruppo coinvolgendo altre aziende e coinvolgendo l'istituto profilattico sperimentale Marche Umbria e la Meccano. Il tutto nasce da una misura del PSR Marche del 2014-2020. Il PSR Marche prevede alla misura 16 l'innovazione, quindi l'introduzione dell'innovazione nelle attività agroalimentari. Questa misura è divisa in due fasi. Una prima fase che era il setting up, cioè il stimolo alla costituzione di gruppi operativi. Qual era lo scopo? Era quello, prima di tutto, di far dialogare le aziende tra di loro, le aziende marchigiane agroalimentari tra di loro, e poter vedere se si possono adottare dei processi innovativi che possano migliorare o la qualità o altri aspetti della produzione. Il setting up nasce e nel nostro caso l'obiettivo era quello di migliorare il benessere degli animali. Allora, innanzitutto, io do per scontato che Copperlatte si conosca, ma probabilmente non tutti lo conoscono, Trevalli, Copperlatte è un consorzio cooperativo, quindi è una cooperativa di cooperative. Le cooperative di base sono cooperative di raccolta latte che a loro volta associano degli allevamenti di produzione del latte, sia bovina, sia ovina. Quindi, un tema che si è stato a sviluppare, logicamente, è quello del benessere degli animali in allevamento. L'altro obiettivo che ci ha messo intorno a un tavolo è quello del trattamento delle acque nei processi di impianti di trasformazione. Quindi, sono queste due tematiche che abbiamo incominciato a sviluppare e in sintesi abbiamo l'obiettivo era quello di migliorare l'igieniziazione sia dell'acqua di lavorazione sia dell'acqua di beverata e quindi abbiamo individuato il biossido di cloro come elemento per trattare, per fare questo progetto, per seguire questo progetto. Il biossido di cloro è dal 1800 che viene utilizzato, viene stato individuato come sostanza per l'igienizzazione. Il problema grosso è che, essendo un gas, cioè gasifica, se non hai personale specializzato nel produrlo, rischi di far saltare tutto l'impianto. Quindi, quello che noi abbiamo invece cercato, se c'era un'innovazione nel mercato che poteva permettere l'utilizzo del biossido di cloro con maggior facilità d'uso. Chi sono i soggetti che abbiamo messo intorno a un tavolo? I soggetti che abbiamo messo intorno a un tavolo, oltre a fattorie marchigiane, che è un consorzio collegato con Copperlat e Valli e che gestisce la parte casearia della Copperlat. Copperlat è un, come dicevo, è un consorzio di cooperative, fa circa 220 milioni di fatturato l'anno, lo fa nel settore del latte fresco, del latte UHT, dei prodotti speciali a base di latte, lo fa anche per circa 40-50 milioni, lo fa nel settore caseario. Lo fa nel settore caseario con due stabilimenti, uno che si trova ad Amandola, specializzato nella produzione delle mozzarella, ed uno che si trova a Colli al Metauro, specializzato nella produzione dei formaggi. Quindi c'è fattorie marchigiane, Copperlat, poi c'è pure la divisione prodotti a base vegetale, che è la crema vegetale Opla, e altre, le bevande a base vegetale, lo stesso, anche perché adesso c'è la tendenza a sostituire il latte con queste altre sostanze, quindi abbiamo utilizzato le nostre tecnologie per rimanere comunque sul mercato. Però quello che potete notare è che oltre al settore del latte, coperto con le fattorie marchigiane, abbiamo messo intorno a un tavolo l'Istituto Marchigiano di Tutela Vini, che è un consorzio di consorzi tutela dei vini delle province di Macerata, Ancona e Pesaro, e la Bovim Marche. Nella fase di setting up, i soggetti che prevedeva il bando erano quelli di aziende agroalimentari più un istituto scientifico. L'istituto scientifico è rappresentato l'Istituto Zoologianattico Sperimentale dell'Umbria delle Marche perché hanno le conoscenze per poter valutare l'impatto igienico-sanitario presente nelle aziende. È una compagina un po' strana. Qualcuno potrebbe dire, io sono vecchio, quindi posso dire un'armata e brancaleone, perché sono soggetti che parlano diverse lingue. C'è chi parla il latte, chi parla della carne, chi parla addirittura del vino. Perché questa possibilità? Innanzitutto perché questi soggetti già erano dentro una struttura, avevano costituito e promosso una struttura che è Food Brand Market, che è l'associazione delle aziende agroalimentari di qualità, che adesso sta prendendo maggiormente corpo, e quindi si trovano già intorno a un tavolo. E perché tutti quanti questi soggetti avevano comunque questo problema di igienizzare o l'acqua di beverata o gli ambienti di lavoro. Quindi abbiamo visto che invece di fare un'innovazione che poteva interessare una filiera verticale dal produttore fino magari alla trasformazione, l'abbiamo fatta una orizzontale, cioè scambiando anche le esperienze dei vari soggetti. Ora, prima di continuare, e poi parleranno i miei colleghi che vengono dalle altre strutture per spiegare bene qual era tutto il progetto. Io volevo fare una carrellata, farvi vedere una carrellata di video che ho tirato giù da internet per spiegare un po' quali sono le problematiche che noi troviamo nei vari settori, dall'allevamento del latte alla trasformazione e alla produzione delle mozzarelle, alla stessa presentazione della Bovin Marche e poi nel comparto della lavorazione delle carni e del vino. Le mucche, oltre a mangiare, bevono. L'acqua quindi è un tema cruciale. L'acqua ci serve per dare da bere alle mucche, ci serve per raffrescare le mucche. Vi spiegherò tutto il sistema di raffrescamento attraverso il quale facciamo delle vere e proprie dolci alle mucche l'estate per farle sentire più fresche e ci serve poi per lavare. Da dove arriva, quanta ne consumiamo e dove va a finire? Abbiamo un pozzo profondo 90 metri dal quale peschiamo l'acqua che serve per tutta la stalla. Inoltre, una grande cisterna di riserva nel caso si dovesse intervenire sul pozzo per garantirci qualche ora di acqua e in più l'accesso all'acquedotto qualora nulla funzionasse e avessimo massima necessità di acqua. In questa stalla abbiamo installato da circa due o tre anni abbeveratoi in acciaio come questo prima li avevamo in cemento innumerevoli sono i vantaggi di questo tipo di abbeveratoio. Il primo la rapidità con cui si possono pulire perché difficilmente sulla superficie del genere crescono alghe quindi semplicemente con una spazzolina si dà una grattata al mangiare che loro hanno sul naso e che immergendolo nell'acqua si stacca e si riposita sul fondo si ribalta l'abbeveratoio e è bello che è sistemato. Noi li puliamo circa due volte al giorno verso le 11 e poi la sera come andare via. Il secondo vantaggio è che hanno acqua sufficiente affinché la mucca possa avere tutta l'acqua che vuole ma ce n'è poca rispetto alle vasche profonde in cemento quindi l'acqua cambia e ricircola. Le vasche che avevamo prima invece cioè che erano più o meno della stessa larghezza ma arrivavano più in fondo l'acqua ristagnava e anche quello creava umida scorco e ambiente per le alghe. Ancora un ultimo vantaggio di questi abbeveratori rispetto a quelli che avevamo prima è che puoi regolare l'altezza da terra a quella che preferisci nelle vasche in cemento le mucche entravano completamente con i piedi per avere la sensazione di fresco e quindi impedivano che le altre mucche potessero venire a bere. Le mucche di acqua in estate quando iniziano a sentire un po' lo stress da caldo possono arrivare quelli in produzione da latte possono arrivare a bere anche 200 250 litri al giorno ogni singola mucca è necessario e fondamentale quindi che ogni mucca possa accedere all'acqua in ogni momento della giornata ogni qual volta ne abbia bisogno. In stalla quindi bisogna assicurare l'abbeveraggio a tutte le mucche cosa significa? Più o meno si dice 10 cm di superficie di abbeveraggio a bacca avendo noi gruppi di animali di circa 80 mucche a gruppo abbiamo garantito e abbiamo circa 8 metri di abbeveraggio in ogni gruppo. Un altro tipo di abbeveratoio che abbiamo molto in stalla è questa a vaschetta singola previsto che possa averci una sola mucca e ce l'abbiamo uno e abbiamo uno di questi abbeveratoi su ogni colonna della stalla. Per noi è un regalo qualcosa in più non lo consideriamo come superficie di abbeveraggio perché in realtà a mio avviso la mucca non beve tanto volentieri da questo tipo di abbeveratoio perché fatta la prima sorsata è lì assetata che deve aspettare che l'abbeveratoio si riempa di nuovo di acqua mentre nell'abbeveratoio più grande può immergerci il naso completamente e fare davvero un tirare su quei sorsi soddisfacenti qui è un pochino una tirata e un'attesa quindi non li preferiamo però magari una mucca trova quelli pieni intanto viene a questi qua vedete la mucca vigorsol è completamente fradicia si percepisce che è bagnata perché è appena uscita dal suo turno di doccia le mucche una volta al giorno vanno in sala di attesa dove di solito vanno per essere munte e lì ciclamente fanno una doccia la doccia è fondamentale per raffreddarle ma andiamo adesso a vedere meglio in sala di attesa come funziona ecco non so se attraverso la telecamera si perseguisce l'acqua sparata dai tetti è una goccia grossa questa è una grossa novità la tecnologia ricordiamola è sempre israeliana gli israeliani sono primatisti in ambito zootecnico e agronomico veramente a livello mondiale la novità è stata l'introduzione della goccia grossa fino a qualche anno fa nelle stalle si usava la nebulizzazione come idea di raffrescamento dell'ambiente siamo poi passati a dire dobbiamo fare delle vere e proprie docce alla mucca ma ciò che davvero raffresca la mucca non è l'essere inzuppata dall'acqua ma è asciugarsi da quest'acqua qui ecco che il sistema alterna 90 secondi di acqua a 5 minuti di vento 90 secondi di acqua a 5 minuti di vento per circa 40 minuti un'ora e è proprio l'evaporizzazione dal corpo attraverso queste enormi ventole che fanno sì che la mucca si raffreddi se avete trovato il video interessante mi ha detto un mi piace domande curiosità lasciate un commento ricordatevi di iscrivervi al canale questo filmato ci dice delle cose importanti per l'allevamento delle mucche da latte servono anche 200-250 litri 200-250 litri di latte per mucca in lattazione ci parla di un allevamento che si approvvigiona naturalmente non dall'acquedotto civile ma da un pozzo e quindi si vede che l'elemento acqua è molto importante che cosa che cosa succede che spesso l'allevatore pensa che l'acqua qualsiasi acqua possa andare bene per gli animali naturalmente se noi trattiamo quest'acqua con biossido e quindi abbattiamo tutti i patogeni l'animale non dovrà dedicare una parte delle sue energie per combattere eventuali insorgenze di infezioni o altre cose che possono nascere proprio per l'acqua che non è pulita quindi questa è la problematica che ci ha interessato che ci ha interessato sul discorso delle mucche da latte ora vediamo un'altra 5 minuti solo per sapere che fine fa il latte che viene prodotto in quella stalla buongiorno a tutti ragazzi finalmente ci siamo speciale 10.000 è da un mese che vi stavamo dicendo di questo video l'abbiamo fatto finalmente ce l'abbiamo fatta capirete perché siamo arrivati in ritardo un video estremamente lungo e che coinvolge diverse persone quindi non è stato facile né da girare né da montare ad ogni modo cosa vi raccontiamo vi raccontiamo il percorso che fa il latte dalla nostra stalla alla nostra tavola quindi da dove si comincia da qui dalla stalla con le nostre mucche dopodiché andremo in centrale del latte e passeremo dalla consegna del latte dopodiché arriveremo in centrale dove ci sarà tutta la fase di trasformazione e infine vi faremo vedere tutti i prodotti che con il nostro latte si possono creare allora cominciamo cosa sto facendo io adesso sto portando le mucche in sala di attesa tutti i giorni due volte al giorno in tutto il mondo in qualsiasi stalla dove ci sono delle mucche le mucche vengono munte la sala di attesa è questa stanza che vedete qua alle mie spalle dove le mucche attendono prima di entrare nella sala di mungitura vera e propria che è là davanti dato che le mucche sono divise in gruppi noi mungiamo 250 mucche non sono tutte insieme sono divise in tre gruppi e un gruppo va in sala di attesa poi esce viene munta esce dalla mungitura e torna nel proprio gruppo dopodiché munto tutto il primo gruppo si porta al secondo gruppo in sala di attesa tutti i giorni due volte al giorno tutto l'anno non sto a spiegarvi nei minimi particolari in questo video in questa occasione come si munge quali sono le tecniche la modalità la filosofia della mungitura come funziona la macchina eccetera eccetera perché faremo dei video ad hoc adesso noi dobbiamo solo concentrarci nelle molecole del latte che escono dalla mammella e iniziano un percorso molto molto lungo che noi seguiremo insieme fino alla fine però prima di cominciare questo percorso ricordatevi di iscrivervi al canale mettere un bel pollicione in su se vi va se avete curiosità commenti da fare scrivete pure solo tre parole velocissime la mungitura può essere divisa in tre grandi momenti la mucca entra e viene preparata alla mungitura dopodiché c'è l'atto della mungitura che nella nostra mungitura è automatico terza e ultima fase post dipping e la disinfezione della mammella dei capezzoli e poi la mucca esce anteriormente e torna in stalla e torna in stalla e torna in stalla allora il latte attraverso questo gruppo in un video specifico in cui spieghiamo la tecnica della mungitura vi spieghiamo com'è possibile che questo gruppo riesca a mungere il latte ad ogni modo attraverso il gruppo il latte passa prima in questa pesa dove viene appunto pesato quindi noi tutte le volte che una mucca viene munta sappiamo quanto è ritraffata è molto importante tenere d'occhio la produzione giornaliera perché di fronte a un problema della mucca un'ingestione un problema a un piede respiratorio di qualsiasi tipo la prima cosa che viene a mancare è la produzione del latte dopodiché una volta pesato finisce nella tubazione del vuoto e dalla tubazione del vuoto in questo polmone a cosa serve il polmone è chiaro immaginatevi che la pompa non può ogni 2 litri che arrivano di latte accendersi e spengersi e spengersi e spengersi aspetta che ci sia un quantitativo di latte superiore 80 anche 100 litri dopodiché parte e pompa il latte dove lo pompa attraverso una tubazione che sfonda il tetto andiamo nella sala della cisterna del frigo quindi il latte sfonda la parete e attraverso questa tubazione finisce nella cisterna dentro la cisterna è facilissimo viene agitato così da raffreddarsi in maniera omogenea vedete la mungitura è appena iniziata quindi sta arrivando molto latte caldo ma è già siamo già riusciti a raffreddarla a 7 gradi arriverà fino a 3,4 3,6 dopodiché cosa fa? sta lì fermo agitato e aspetta il camion che venga a prenderlo per portarlo in centrale e allora anche noi prima di tutto ringraziamo Raffa che sta mungendo e che continuerà a mungere come farà anche domattina e anche domani sera e noi aspettiamo il camion del latte buongiorno Sergio buongiorno buonasera buonasera ci riveliamo sempre qua come tutti i giorni dal 1982 Sergio viene a prenderci il latte dal 1982 sono 40 anni che viene qui tutti i giorni dell'anno vero? tutti i giorni meno che il sabato sera meno che il sabato sera allora adesso Sergio attacca la pompa sentite il rumore ma la pompa ora sta caricando il vuoto o è già partita? sta facendo il vuoto adesso la pompa Sergio ha attaccato la pompa adesso sta facendo il vuoto ovviamente il latte lo carica a depressione non è che passa attraverso la pompa lo succhia lo succhia perché qui c'è meno aria che fuori e non lo sbatte leva l'aria da dentro la botte quando apri è sul carico nella cisterna c'è adesso c'è depressione? la cisterna ha una fatienza di 24.000 litri 24.000 litri signori e signori e quanto ci metti? ogni quanti giorni riesci a farla piena? o in ogni giro è piena? anche se non si piena però dipende a volte 150 200 insomma 20.000 litri 15.000 divisa in 4 scomparti per ecco questa cosa qui è importante non è che il mio latte va a mischiarsi con il latte di quegli altri ogni azienda che c'ha il biologico va in una botte che c'ha l'alta qualità va in una botte l'agri qualità va in una botte le scelte corrispondono con queste righe? no no non c'entra niente le righe non c'entra niente e ce ne sono 4 sono diviso in 4 quindi c'è 4 rubinetti e adesso il nostro latte in quale è il dratti? il nostro latte va in aprile prima scelta si apre questa è la prima tutte vedo poi attacco il tubo attacco il tubo e tutto appunto e questo è da 40 anni 40 anni ragazzi che Sergio me ne fa 40 anni la cosa davvero più importante che fa Sergio è la misurazione del latte qua dentro c'è un'asta graduata con tutte le tappette Sergio spinge la spinge l'accello ovviamente perché se no il latte è scanto guarda quanto è 1015 leggi nella tacchetta poi lui ormai ricorda tutti i numeri a memoria quindi ha già detto che di più è aumentato e io sono contento quando l'altro aumenta ora diamo inizio al compagio del latte abbiamo la tabella nella targhetta rossa ci sono nella cartella rossa c'è la tabella di conversione tra l'asta graduata e i litri dell'arte 10 scritto 1010 15 vedi quanto è qui 69,48 6.948 litri va bene è aumentato ultima cosa che fa Sergio in questo foglio scrive data ora quantità presa e la firma e la firma ci siamo quasi ragazzi ci sterna vuota questo latte è pronto a essere trasformato bene grazie mille Sergio che passione ragazzi da 40 anni tutti i giorni stessa ora viene qua e ci prende il latte adesso vedrete che magicamente la scena passerà da notte a giorno perché perché le riprese in centrale è molto meglio farle di giorno quindi ci andremo domani mattina buon proseguimento presidente buongiorno grazie mille di accompagnarci in questo percorso che ci racconta la storia del latte siamo partiti dalla mia azienda abbiamo fatto vedere la mungitura col camion siamo arrivati fino a qua adesso ho bisogno di un aiuto per la spiegazione delle macchine bene grazie grazie veramente di essere venuto qui da noi io mi tolgo la maschera perché tanto nel rispetto perfetto di quelle che sono le norme sicurezza covid avremo modo di rimanere distanziati ma mi aiuta e mi facilita ad illustrare quelle che sono i percorsi che faremo questa mattina insieme al camion che ci ha appena portato il latte il latte è arrivato dalle stalle dei nostri soci siamo all'interno della centrale questo è diciamo il fulcro di tutto il nostro lavoro entrando si vedono solo provette bottigliette piccoli reagenti ma la dicono lunga sul fatto che noi siamo in un'azienda che fa alimentare che fa un prodotto alimentare per il quale dobbiamo avere un controllo e un monitoraggio continuo attento e peculiare qui alle vostre spalle vedete il nostro piccolo laboratorio il primo laboratorio di ingresso del latte dove vengono fatti i controlli basilari del prodotto prima di andare poi alle analisi più accurate nel laboratorio centrale dell'azienda che abbiamo posizionato altrove questo serve per consentire di avere sia un controllo sulle tipologie e sulla qualità del prodotto ma anche la classificazione delle diverse tipologie di latte che poi troveremo dopo il commercio come latte di alta qualità latte biologico latte agri qualità e così via questa è la parte importantissima di un'azienda alimentare perché ci consente e ci dà forza per essere l'azienda che siamo un'azienda che rappresenta la qualità del prodotto ma allora non distraiamoci troppo da questo nostro latte è arrivato con il camion e dove va a finire bene il latte arriva una volta controllato va in questi macchinari che sono i macchinari alla base della produzione del latte fresco infatti qui come potete vedere ci sono il pastorizzatore e la centrifuga il pastorizzatore è quel prodotto è quello strumento che consente al latte di passare all'interno di una serpentina a una temperatura costante di 72 gradi per fare in modo che si possano abbattere tutti quelli che sono i microorganismi negativi del prodotto questo vale per 5 secondi il latte passa all'interno di questo macchinario per 5 secondi a 72 gradi dopo questo passaggio entra nella centrifuga questo macchinario è la centrifuga che consente di eliminare tutte quelle che sono le scorie e le impurità che potrebbero essere rimaste all'interno del prodotto dal momento in cui viene trasportato dalla stalla per arrivare qua allo stabilimento a questo punto il latte identificato e classificato tramite questa forma di valvole che sono tutte automatizzate e informatizzate viene diretto nei tank di stoccaggio dove è classificato per biologico convenzionale alta qualità e agri qualità siamo adesso nel reparto imbottigliamento il latte una volta classificato e una volta stoccato nei tank viene poi veicolato all'interno dei macchinari di imbottigliamento tramite un sistema sempre di tubature che regolano poi lo spostamento del prodotto a secondo degli ordini arrivati dai commerciali qui abbiamo in produzione in questo momento il nostro latte fresco parzialmente scremato in cartone questo macchinario ci consente di preparare i cartoni e di mandarli poi all'impacchettamento definitivo per la spedizione due linee di produzione abbiamo quella del cartone e quella della bottiglia queste sono le due linee innovative che noi abbiamo questo serve per garantire quelle che poi sono le esigenze commerciali di chi vuole acquistare il prodotto in cartone e di chi lo vuole acquistare invece in bottiglia però noi abbiamo predisposto il lavoro in maniera completa e ampia come vedete stanno arrivando le bottiglie che vanno nel sistema di lavaggio disinfezione prima di andare poi nella parte di riempimento questo macchinario ci consente di fare entrambe le operazioni lavaggio disinfezione e riempimento in maniera tale che la bottiglia non possa avere contaminazioni fuori da questo ambiente e anche questo è un altro degli elementi importanti per garantire la qualità del prodotto e diciamo l'impossibilità di avere delle contaminazioni in questo momento le bottiglie confezionate vengono pallettizzate con un sistema di fasciatura in maniera tale che le tenga compatte e anche questa molto innovativa perché lo abbiamo fatto per evitare il consumo delle cassette in plastica cercando di razionalizzare anche consumi e diciamo fonti di inquinamento magari che potevano essere non particolarmente premianti per la nostra attività quindi una macchina avvolge le bottiglie e lì dentro mi immagino c'è del calore che comprime il neonismo tra di loro esatto la produzione viene chiaramente identificata per settori dove deve essere poi veicolata commercialmente e questo sistema di robotizzazione ci consente anche di pallettizzare quelli che sono gli ordini in maniera puntuale e precisa affinché possono arrivare poi nei vari depositi il robot prepara nel pallet già le misure giuste di latte di dove quel pallet deve andare esatto questa è stata diciamo l'ultima tecnologia che abbiamo inserito all'interno dell'azienda programmiamo per ogni ordine di quantitativo che deve essere pallettizzato dopodiché viene predisposto preparato e portato poi nel reparto invio in questo momento siamo all'interno della cella di stoccaggio del prodotto dove vengono predisposti organizzati e misurati tutti quelli che sono gli ordini da veicolare poi nei nostri depotti come vedete qua c'è scritto Arezzo vuol dire che questo è il reparto del carico che deve andare nel nostro deposito vendite di Arezzo la temperatura è sempre controllata a 4 gradi qua lavoriamo a 4 gradi costantemente e diciamo nell'ultima nostra innovazione anche di quella che è la struttura abbiamo persino messo a regime per le temperature la banchina di carico anche in banchina di carico siamo refrigerati per non interrompere la catena del freddo come vedete questi macchinari sono tutti macchinari molto semplici ma che hanno una funzionalità molto importante i pallet ovviamente non sono mai i pallet pieni perché sono composti da ordini di vari prodotti quindi per garantire la stabilità di questi pallet con questo sistema vengono fasciati tenuti insieme in maniera tale che durante il trasporto non possano perdersi o non si possano sciupare nel proseguire la nostra passeggiata all'interno della centrale ci troviamo adesso nel reparto ultimo nato dell'azienda è quel reparto che ci consente di fare le due produzioni per noi anche queste estremamente importanti che sono il latte ESL cioè il latte a temperatura modificata nel senso che è un latte che viene riscaldato anziché a 72 gradi a 100 gradi e anziché per 6 secondi per 12 secondi durante la pastorizzazione quindi sempre all'inizio la pastorizzazione e che consente di avere una durata anziché di 7 giorni di 21 giorni è sempre un prodotto estremamente importante e fresco diciamo come produzione primaria ha però la possibilità di avere questa durata un po' più lunga che in una fase anche di pandemia purtroppo come stiamo attraversando ha aiutato molto chi non poteva giornalmente andare a fare la spesa oltre a questo tipo di prodotto qui viene realizzato anche lo yogurt quindi questi sono i due macchinari innovativi che ci consentono di fare latte ESL e yogurt da bere e al cucchiaio allora quindi abbiamo visto il latte tutto il percorso del latte fresco appena munto e abbiamo visto che nelle varie fasi di questo percorso è necessario consumare dell'acqua acqua in grandi quantità sia nello stabilimento sia nella pulizia di tutte le tubature quindi c'è questa necessità proprio di poter consumarne cioè di razionalizzare il consumo dell'acqua in modo da evitare sprechi perché come sappiamo in futuro il tema dell'acqua è un tema molto molto caldo grazie a tutti grazie a tutti Grazie.